Dal Vangelo secondo Luca. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. Chi sarà mai questo bambino? Si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Questi giorni della novena di Natale sono una grande palestra di emotività spirituale. Nel senso che i testi evangelici davvero ci portano a quelle emozioni, non sentimenti leggeri, ma quelle emozioni profonde che fanno da sfondo alla fede. Se l'incontro della visitazione tra Maria e Elisabetta è un testo pieno di gioia, se il Magnificat è il testo dell'esultanza, il testo che abbiamo ascoltato oggi per questa antivigilia di Natale è il testo dello stupore, della meraviglia, dell'attesa. Coloro che vengono a sapere della vicenda di Giovanni il Battista vivono un senso di meraviglia e di attesa. E su questo conviene sottolineare un aspetto del brano che abbiamo ascoltato. Quando vanno da Elisabetta e da Zaccaria per chiedere come deve chiamarsi il bambino, tutti si aspettano che venga chiamato con il nome di un parente, come era usofare per gli ebrei, con un nome già noto, che si scegliesse tra i nomi della famiglia come avrebbe dovuto chiamarsi questo bambino. E invece Elisabetta tira fuori un colpo di meraviglia, tira fuori un colpo di genio, apre un futuro inedito. No, si deve chiamare Giovanni. Tra l'altro Giovanni non è un nome banale, leggo da chi si intende di scrittura, e la traduzione letterale sarebbe Dio fa grazia e usa misericordia. Cioè, a coloro che volevano chiamare Giovanni con un nome già saputo, che volevano circoscrivere Giovanni nel già noto, ok? Vi è nato un bambino, è dono di Dio, tutto quello che volete, Dio ha esaltato la sua misericordia, ma adesso chiudiamolo in una storia che più o meno già sappiamo. Zaccaria e Elisabetta dicono no, questo bambino si chiama Dio usa misericordia, Dio sta aprendo un futuro. Tra l'altro vi ricordate Zaccaria, che non poteva più parlare, perché non ha avuto fede, e se non hai fede, se non riconosci l'azione di Dio nella storia, cosa hai da dire di significativo? Quando dice no, Giovanni sarà il suo nome, Dio usa misericordia sarà il suo nome, ho compreso in questo tempo di silenzio che Dio apre a strade nuove, lì si apre la lingua, lì allora gli si apre la lingua e può lodare il Signore. Quando tu riconosci nella meraviglia che il Signore sta aprendo strade nella tua esistenza e nel mondo, allora hai ancora qualcosa da dire. E tra l'altro la cosa bella è che il testo finisce che tutti iniziano a domandarsi che sarà mai questo bambino. Quando hai una parola che sa di futuro, quando sai guardare con speranza il futuro, perché Dio usa misericordia, ti tiri dietro un sacco di gente. Abbiamo fame di speranza, abbiamo bisogno di speranza. Zaccaria dopo il tempo del silenzio, perché non aveva nulla da dire, non sapeva più sperare, non credeva più che Dio è capace di agire e di trasformare la sua storia, adesso può parlare e quando parla tanta gente si unisce alla sua lode e alla sua meraviglia. 23 dicembre allora, antivigilia di Natale, tempo per rispolverare la meraviglia, per rispolverare lo stupore che Dio fa la differenza. Aristotele e anche Platone, i due grandi maestri della filosofia antica, dicevano che all'inizio della filosofia c'è la meraviglia. Si inizia a riflettere, perché sei meravigliato, di un qualcosa che non ti aspettavi. Forse anche la fede inizia con la meraviglia. Inizia concedendo a Dio la possibilità di stupirti, di aprire un futuro nuovo, di aprire e estrarre inedite. Per Zaccaria e per Elisabetta è così, si chiamerà Giovanni. Dio usa misericordia, apre una strada nuova. E se fosse anche per te, e se fosse anche per me, e se fosse anche per noi questa possibilità di riconoscere nella meraviglia che Dio sta aprendo strade nuove. Auguro a tutti allora una buona antivigilia di Natale e che sia davvero tempo per rispolverare la meraviglia che sta all'inizio della fede. Grazie. Grazie.